allora intanto io vorrei presentare mario scippa di nuovo mario scippa è un perito antiquario di generazione consulente di antiquariato nonché architetto quello che gestisce la galleria antichità scippa che essi tenna via vannella gaitani e la strada che porta a piazza l'entore quindi ci troviamo proprio a napoli lui anche scrittore perché come dice lui non so non so parlare e poi 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 ma noi lo faremo parlare ricordiamo il suo primo libro l'antiquario il professore e poi cosa importante che lui ha avuto questa idea geniale da un po di anni ha aperto il suo salotto al pubblico per delle lezioni di antiquariato parlando a chiunque ne si è interessato di mobili e di storia napoletana quindi per conoscere meglio il lavoro di antiquariato e il mestiere appunto che lui svolge e quindi e quindi abbiamo il piacere di averlo di averlo qui con noi con la speranza che presto si possano riaprire tutte tutte le attività che ovviamente adesso sono costrette a rimanere chiusa e speriamo non per molto Mario dovrebbe fare di nuovo la richiesta ecco qui perché ci sono delle domande a cui risponderà che mi avete posto voi però è caduta la linea è caduta la mia sì io vabbè ho continuato a fare la tua presentazione e in pratica da un po di anni da quanti anni hai aperto la galleria a modi di salotto insomma per ottenere delle lezioni letterario il salotto letterario antichità scippa è nel nel 2009 fino a tre anni fa fino a 22 anni e mezzo fa insieme a a una carissima amica rossana rossana di voce una grande conoscitrice di napoli dell'arte e della letteratura insieme a lei ci veniste idea di di riportare di riportare un po in chiave moderna quella che quella che è stata da sempre una tradizione nei negozi antiquari e negozi antiquari di una volta però nei negozi di antiquari di una volta si svolgeva una sorta di spontaneo salotto culturale si riunivano artisti poeti e si parlava di arte di pittura di poesia in chiave moderna abbiamo riportato questa tradizione forse tipicamente napoletana sai a napole si perdono in bucafè a chiacchieriate e intorno all'arte nell'arte si parla di arte con artisti si parlava poi si è persa la velocità la velocità delle transazioni si è persa questa abitudine di perdere tempo nei negozi di antiquari di antiquari di antiquari e quindi da avvenne stracosa di portare qua nel negozio artisti scrittori musicisti per otto nove anni abbiamo abbiamo realizzato eventi almeno una o due volte al mese con questi incontri bello guarda si deve fare si deve fare ancora è dura dura mia cara per riprendere è dura però si rifarà si rifarà perché perché tu devi sapere una cosa e tu lo sai tu lo sai io lo so che tu lo sai che non si mangia di solo pane ma si mangia anche di bellezza e di cultura perché se il pane dà forza al corpo la cultura dà forza lo spirito e alla mente e allora io per importante non si cambia di altro anche ovviamente di beni materiali diciamo di soldi insomma quella anche una cosa importante però la vita bisogna fare un po un certo balance di tutto si bisogna essere completi dimmi tutto allora di cosa vogliamo parlare stamattina allora ci sono delle domande la prima voglio fartela io allora innanzitutto l'antiquario ma chi è chi è l'antiquario cosa fa racconta e magari anche di qualche aneddoto perché comunque di esperienza ne hai di anni tu sei un antiquario di generazione insomma racconta la figura dell'antiquario l'antiquario l'antiquario è una figura particolare io dico sempre amo paragonale l'antiquario ad un medium a un qualcosa o qualcuno che sta al centro di mondi di mondi differenti i due mondi sostanzialmente differenti quali sono quelli cui l'antiquario sta al centro è il mondo di chi vende e il mondo di chi compra l'antiquario sta in mezzo e intercetta l'oggetto che viene venduto e il potenziale possessore ma io non ho capito ancora se il potenziale possessore che sta cercando l'oggetto o è l'oggetto che da quando è stato realizzato fa giri va in una casa poi va in un mercato poi va in una casa d'asta poi va in un'altra casa e fa tutto sti giro sembra che sta fermo sembra che è immobile in un posto ma se lo guardiamo con una telecamera accelerata nel tempo questo oggetto costruito due a 200 anni fa per esempio ha fatto dei giri pazzeschi dei giri si è mosso a volte in tutto il mondo da un lato all'altro del mondo per trovare la persona giusta perché è questo il punto cioè io sono e quest'anima vivente va a completarsi con l'anima umana cioè l'anima umana si sente appagata quando trova un oggetto antico lo sente suo nonostante sia una cosa fatta 200 anni fa di questi malati di questi psicopatici che cercano fosse ossessivamente un oggetto però non è quando è un piatto è paradossalmente quando compra l'antiquario gode di aver trovato un oggetto bello probabilmente senza pensare al cliente che lo venderà è naturale che poi il suo piacere si trasforma in qualcosa di economico quando lo vende e quindi viene appagato ancora di più ma non solo economicamente ma per il piacere di essere stato appunto quel medium che ha messo insieme quell'oggetto con quella persona giusta che lo stava cercando in buona sintesi che è la figura dell'antiquario che penso io che ho sempre pensato io e che mi ha tramandato un mio vecchio maestro di antiquariato un vecchio antiquario napoletano mi disse proprio che si dice maria ca un 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 è divisi in due che il che si vede e che il che si accatta e noi antiquari stiamo al centro e ama capì come mettere assieme sti due cose il medium è il medium infatti perché allora davanti l'antiquario non compra ecco qua è caduta vediamo chi ci sta io non ci vedo allora salvatore anastasio luigi manno antonio somma cato sergio lauro buongiorno colomba natasha ciao natasha l'altra amministratrice e pasquale langella buongiorno ne approfitto per dire che queste dirette io vorrei farne almeno una due volte a settimana raccogliendo ovviamente varie categorie oggi è quella sull'antiquariato con mario scippa domani ce ne sarà un'altra e parleremo di un'altra cosa ma non vi svelo niente per ora allora stavamo parlando della figura dell'antiquario qual è la sua funzione va bene ma è arrivata una telefonata ho detto che ci risentiamo cosi niente hai capito un poco come lo vedo io l'antiquario e poi un'altra cosa importante che mi sfuggiva di dirti è che non è una figura omologata cioè uno parla dell'antiquario e pensa che tutti gli antiquari fanno lo stesso lavoro lo stesso identico lavoro no ci sono tanti antiquari e tanti modi di fare l'antiquariato quanti antiquari ci sono sulla faccia della terra ogni nostro lavoro è un lavoro unico e irripetibile è chiaro è incredibile anche perché anche perché l'antiquario l'antiquario mia cara giuliana è un po vedi l'accostamento scrittura antiquariata no nella mia vita l'antiquariata è un po come come un poeta il poeta nel caos che gli passa davanti agli occhi guarda qualcosa che va oltre i confini di ciò che appare scontato agli altri perché cosa qual è il suo obiettivo per trovare bellezza è un po così l'antiquario ma l'antiquario nel caos insomma va alla ricerca per ciò che lui sta cercando non pensa al cliente è una sorta di vero antiquario sì il vero antiquario cerca per sé e poi quel piacere che ha ha vissuto nell'aver trovato quel frammento di bellezza si completa ancora di più sia economicamente e sia proprio spiritualmente quando lo condivide con un altro quando ha trovato la persona giusta a cui cederlo perché non è un collezionista l'antiquario capisci il collezionista è colui che deve possedere basta solo per sé l'antiquario no l'antiquario sia economicamente sia proprio moralmente deve condividerla il frammento di bellezza perché è come un poeta ti ricordi massimo troisi quando diceva la poesia non è di chi la scrive ma di chi e di chi gli serve è così l'antiquario l'antiquario quell'oggetto non è mio quando l'ho comprato ma è di chi gli servirà poi dopo hai capito peccato detto è come un poeta sì sì no è bellissima va bene grazie per la tua visione questo è un po questo è un po con l'antiquario che vedo io insomma che come lo vivo io ti ripeto poi ognuno lo vive in un modo ci sono tanti antiquari quanti antiquari ci sono al mondo io ne sono convinto di questa cosa ma ne sono convinto ancora di più quando abbiamo quando facciamo queste grandi manifestazioni anche a carattere internazionale in francia per esempio a parma dove arrivano antiquari arrivavano ma chi sa quando succederà ancora antiquari da tutto il mondo e ci incontravamo in migliaia migliaia di antiquari migliaia di modi diversi di vedere lo stesso oggetto capisci incredibile cambio culturale sì che avviene sì 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 il culturale commerciale tutto commerciale tutto ok grazie per aver risposto alla mia domanda e adesso veniamo alla domanda di Gianluca Todisco Gianluca Todisco chiede quali sono le fondamentali domande per valutare un mobile antico e per poterlo quindi scegliere cioè a quali domande bisogna rispondere e noi dobbiamo rispondere quali domande ci dobbiamo fare prima di acquistare innanzitutto noi non abbiamo a che fare con oggetti esclusivamente funzionali ma anche funzionali soprattutto nelle case di oggi no che non sono le case di una volta per cui la primissima domanda la primissima propria l'oggetto che sto cercando risponde alla funzione che deve assolvere a casa mia qual è la funzione è una funzione pratica è una funzione estetica è una funzione economica di investimento allora la primissima domanda è questa cosa cerco cerco sto cercando il tavolo perché devo mangiare questo tavolo quante persone prevedo che mangiano intorno a questo tavolo sempre solo quattro è inutile che compro un tavolo apribile per 32 posti è inutile che mi avvicini cerco un tavolo dove questo mio ambiente deve rappresentare qualcosa di importante aulico e come cerco un determinato stile piuttosto che un altro queste sono le prime domande come valutarlo come valutarlo in che senso c'è se il prezzo che mi viene richiesto è un prezzo giusto per quell'oggetto è un discorso lunghissimo da fare e anche abbastanza complesso innanzitutto innanzitutto dovrei essere aggiornato sui prezzi di mercato per cui facciamo l'esempio del tavolo ho fatto il tavolo se cerco il tavolo la prima cosa da fare è informarmi almeno nelle case d'aste pubblicate su internet tavoli che rispondono alle mie esigenze a quando sono stati venduti negli ultimi tre quattro anni per cui mi faccio più o meno un'idea di quanto potrebbe essere una reale e onesta richiesta da parte del commerciante dopodiché mi devo affidare affidare al commerciante devo avere fiducia l'antiquario è un po come il gioielliere di famiglia devo avere estrema fiducia di quello non posso pensare io privato che non ne so niente che il primo oggetto che compro entro da un antiquario e faccio il mio grandissimo affare perché l'antiquario non l'ha capito l'antiquario è il primo che l'ha capito l'oggetto che ha qualsiasi oggetto ha anche se fa finta di non capirlo commercialmente per far illudere il cliente che sta facendo un affare è il primo che sa che cosa ha perché lui l'ha trovato lui l'ha pagato lui ce l'ha il negozio ha avuto tutto il tempo per studiarselo per guardarselo ha l'esperienza e la competenza giusta per poter chiedere un prezzo per cui dimentichiamolo sta cosa che io entro in una bottega di antiquario e faccio il grande affare io entro in una bottega di antiquario se so che questa antiquario è una persona onesta mi chiederà il prezzo giusto se quell'oggetto risponde alle caratteristiche che dicevo prima funzionale estetiche di investimento che fanno a caso mio io apro la trattativa lo compro se no devo studiare devo rischiare devo girare mercati e divento pure io io privato competente ed è un altro discorso non mi baso più su quello che mi dice l'antiquario è chiaro il discorso è la tua figura quindi è importante perché fai proprio della tramite è il tramite il medium che dicevo prima crearsi proprio un rapporto di fiducia noi per esempio noi per esempio di antichità scippa anche se io curo specificamente il campo delle consulenze delle valutazioni delle stime insomma il campo teorico della ditta però all'interno della ditta quando effettuiamo una vendita accompagniamo sempre sempre l'oggetto venduto anche se è una persona conosciuta conosciuti che ci conosce che ha fiducia di noi accompagniamo sempre l'oggetto da un certificato di autenticità redatto con fotografie con tutte le descrizioni dettagliate dell'oggetto e ce ne assumiamo pienamente la responsabilità di quello che viene detto a voce viene anche messo per iscritto quindi questo è importante insomma per chi compra chiedere sempre un certificato di autenticità di quello che è importante sì sì ok grazie a te passiamo all'altra domanda sei pronto ci stiamo preparato no bruno maddalena chiede come comprendere la differenza tra oggetti d'arte cioè d'antiquariato e oggetti in stile cioè quelli di imitazione fa l'esempio di una credenza per esempio le rare napoletane no e di cui le riproduzioni poi ce ne sono tante sono forse rare anche quelle come si fa ecqua a distinguere a comprendere bene le differenze perché comunque sono fatte veramente bene io le ho viste le riproduzioni e come si fa allora come si fa come si fa lo so lo so c'è ogni oggetto vedi io prima ti ho parlato dell'oggetto antico del mobile quando parlavo della figura dell'antiquariato in chiave poetica io ci tengo sembra sta cosa ci tengo sempre perché perché ogni oggetto antico ogni mobile e anche e soprattutto ogni opera d'arte che ci arriva dal passato ognuna di queste cose contiene un linguaggio parla parla allora per esempio no quante volte è capitato che qualcuno viene nel negozio e prima di guardare dalla giusta distanza l'oggetto si avvicina e cerca di capire se il legno è antico se è tarlata se il chiodo è forgiato a mano se questo insomma tutti questi particolari tecnici che potrebbero indicare se un falso se una riproduzione o se è un originale ma prima di queste osservazioni che di solito tutti fanno per prima c'è una cosa molto più importante da fare quella di mettersi dalla distanza giusta cioè distante dal mobile e vedere il mobile che cosa ci sta raccontando con il suo linguaggio non so se è la cosa ogni epoca ogni epoca ogni paese dove è stato prodotto all'epoca quel mobile e si esprime con una lingua con un linguaggio attraverso l'oggetto di uso comune d'accordo attraverso il tavolo attraverso la sedia attraverso la libreria cioè questi mobili questi oggetti parlano ci raccontano tutto ci dicono ci dicono la storia la storia sociale la storia politica la storia economica di un paese di un posto ci dicono tutto quando sono originali quando sono allo come se fa se fa come si fa con tutti i linguaggi che noi abbiamo a disposizione se io voglio parlare tedesco d'accordo e mi metto là e mi faccio due anni studi ne vado un po in germania tu per esempio vai a londra una vada in germania sto in mezzo ai tedeschi e quello che ho in bacona e allora quando uno mi parla tedesco io lo capisco che voglio dire con questo stiamo sempre là che non è facile per chi non sa per chi non è a conoscenza del linguaggio il linguaggio di un mobile antico si acquisisce con l'esperienza empirica e con e con lo studio e anche con lo studio con l'esperienza sul campo da un lato e con lo studio l'altro qual è lo studio la cosa più semplice che può fare un privato lo studio e lo studio della storia della storia della storia dell'arte per esempio in un video che ho pubblicato per presentare questa diretta ieri che ho parlato di del perché molti mobili quasi tutti i mobili prodotti nel passato si associano si associano al nome di un re francese è un luigi filippo è un luigi 16 luigi 14 perché anche se è prodotto a napoli anche se è prodotto in svezia anche se è prodotto in euro perché perché nel tra la tra l'inizio del settecento e la fine dell'ottocento e la fine dell'ottocento la francia è stata il centro della produzione delle arti della produzione dei linguaggi delle arti e delle arti applicate e delle arti applicate e ha dettato legge e stili negli stili e nei linguaggi della produzione dei mobili della produzione dell'arte allora teniamo il luigi 14 che corrisponde al periodo barocchetto il luigi 14 e luigi 15 luigi 16 al periodo neoclassico il direttorio e poi l'impero al periodo napoleonico il direttorio consolato e impero e poi revival tutti questi passaggi di stili ci fanno capire che il mobile ci sta raccontando quel periodo storico preciso e quindi lo associamo a quel re di quel paese che in Europa ha dettato le leggi poi andiamo a guardare se se io conosco tutto questo e vedo che il mobile me lo sta raccontando il mobile mi sta dicendo questo è un mobile io sono stato realizzato tra la fine del settecento e i primi dell'ottocento perché porto determinate caratteristiche linguistiche per esempio la credenza napoletana che dicevi tu e compagni porto determinate caratteristiche ora per avere la conferma dopo cioè se tutto corrisponde se questo racconto se questa narrazione che il mobile mi sta facendo corrisponde a quell'epoca io per avere la conferma vado a guardare la tecnica e quindi se il legno usato è quello di quella di quel paese per esempio credenza napoletana c'è il pioppo dentro perché a napoli in quel periodo per esempio nel 1830 40 fuori era di mogano dentro e la struttura portante era di più allora me lo vado a guardare e vado a vedere se c'è il pioppo quel pioppo come è stato disposto a telaio per esempio il fondo dietro è un telaio a battuta è un telaio incastrato e mi vado a guardare tutti questi particolari allora conoscenza linguistica conoscenza tecnica le metto insieme e riesco a capire se è originale o non è perciò non è così semplice non è che c'è una formuletta io per esempio nelle mie lezioni di antiquariato che do che davo prima della pandemia ogni mercoledì qua al negozio ogni settimana ogni lezione ci concentravamo su un aspetto minimo piccolo un dettaglio infinitesimale e da quel dettaglio si parlava dell'universale si arrivava a parlare di tutto eh sì perché è veramente complesso il discorso non è così semplice sembrerebbe strano però comunque se proprio va a mancare quel particolare se non c'è non è presente quel particolare tu non ci arrivi poi alla conclusione assolutamente no assolutamente no cioè l'antiquario deve avere l'occhio l'antiquario e anche il compratore il compratore esperto il compratore sensibile deve avere l'occhio sul tutto e sul dettaglio contemporaneamente contemporaneamente sul tutto e quindi il mobile che mi sta raccontando sì ok è quello mi sta dicendo che 1830 Napoli su stile francese eccetera 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 dettaglio pa è realizzato in quel modo veramente come si faceva a Napoli in quel periodo è chiaro cioè dettaglio e particolare contemporaneamente no perché è vasto poi stiamo parlando solo del mobile sì stiamo parlando solo del mobile perché l'antiquario l'antiquario vero è quello generico non è lo specialista lo specialista si concentra su un determinato aspetto del mondo antico e tratta solo quello solo quello l'orologio antico e tratta solo l'orologio antico l'orologio antico di una certa epoca precisa l'antiquario generico tratta tutto il vecchio antiquario quello che cerchiamo di mantenere noi come tradizione qua nella nostra ditta antichità scivola tratta tutto cioè vive proprio te l'ho detto immagina a sto medium sospeso nell'universo con un dito qua e un dito dall'altro lato la comprano la vendono e lui in mezzo che cattura queste energie le mette insieme ma qualsiasi cosa tazzina grande libreria quadro scultu tutto tutto è incredibile sì ce ne sarebbe da parlare ma comunque è interessante il fatto che tieni delle lezioni per approfondire spero che presto si possano riprendere io vero ma guarda come mi mancano e ci stanno i partecipanti che ormai mi seguono da anni di queste lezioni poi io le chiamo non mi piace chiamarle corso di antiquariato mi piace di più chiamarle lezioni di antiquariato anche perché faccio riferimento a un grande scrittore italiano a italo calvino in quel suo bellissimo libro lezioni americane dove lui dove lui individuo alcuni valori importantissimi per la letteratura e per il linguaggio da salvaguardare per questo millennio lui è morto nell'87 da salvaguardare nel millennio che stiamo vivendo adesso che erano la leggerezza la visibilità la molteplicità l'esattezza e io questi valori che lui ha usato per la letteratura li ho trasposti per leggere e rappresentare con il linguaggio gli oggetti antichi l'antiquariato fatto questa trasposizione una forza dura però parliamo di antiquariato con leggerezza con esattezza con una visione molteplice con la visibilità con l'immaginazione anche con volontà insomma nel tentativo di volerla di e di poterla tramandare quindi perché comunque gli insegnamenti stati dati da letterati da filosofi ci sono arrivati finora e comunque stiamo ancora a parlarne quindi la sua volontà quella è importantissima è importantissima e chi si avvicina all'antiquariato io lo consiglio sempre avvicinarsi all'antiquariato viste che non ci sono scuole non ci sono corsi non ci sono università accademie ufficiali dove si insegna il linguaggio dell'antiquariato io dico sempre che bisogna avere una una predisposizione ad accordare le corde sensibili e quindi cosa serve innanzitutto prima degli stili dei linguaggi del prima ancora serve musica serve poesia serve serve bellezza serve affinare l'occhio alla bellezza quando hai affinato l'occhio alla bellezza e poi ti informi sugli stili sui linguaggi sulle tecniche tutto viene filtrato da quella sensibilità che hai acquisito al bello riesci a percepire se un mobile è autentico o falso guardandolo da lontano mi devi credere guardandolo da lontano perché un mobile autentica è bella un mobile false è brutto è inutile che si va a guardare sotto sopra si gira è inutile bisogna fidarsi un poco anche al sesso senso alle emozioni a quello bisogna essere accordare le proprie corde sensibili tutte tutte io quando faccio le lezioni di antiquariato prima di iniziare la lezione ospito i poeti a declamare poesie ospito musicisti a farci ascoltare qualcosa capisci cioè li metto quelle 10 15 persone che vengono li metto in una condizione che prima di parlare del legno della placatura del chiodo li metto in quella condizione bella cioè li faccio viaggiare sulla bellezza e poi parliamo poi parliamo di quel particolare ricordiamo i corde sensibili no vabbè io già sono la no ma davvero appena sarà possibile dobbiamo rifarlo subito subito lo devi fare appena appena c'è l'anno possibile io non mi permetto perché l'ambiente ormai è piccolo tu mi dicevi perché non si fa più il salotto abbiamo dovuto ridurre da un paio di anni tenevo io questo spazio dove sto adesso io era il luogo dedicato agli eventi che oggi se mi viene a trovare qualche volta ti renderai conto che è praticamente impossibile fare eventi che tenevo giusto 42 posti a sedere a spazio però però era vuoto oggi è invece affollatissimo di oggetti perché abbiamo dovuto togliere un deposito abbiamo dovuto ridurre un poco ho capito ho capito ma della pandemia immagino ma che la pandemia abbiamo un'ultima è bloccato non ho sentito abbiamo un'ultima domanda che è più una curiosità veramente sulle maioliche di quelle che hai anche tu abbiamo visto in vetrina dimmi un po le maioliche pure avevano una funzione no perché abbiamo visto nelle farmacie per esempio contenere delle pozioni e raccontami un po sulle maioliche segni un po guarda a napoli a napoli a partire già dal cinquecento si producevano maioliche bellissime in particolare prima dei vasi sulle pavimentazioni ci sono dei pavimenti del cinquecento nelle case nelle chiese nelle cappelle principalmente che sono di una bellezza straordinaria e quei decori quelle produzioni hanno poi quelle tecniche hanno poi in vaso le case con oggetti di uso comune no dal vasetto al vaso di farmacia il vaso di farmacia poi l'albarello l'albarello il boccione che erano questi contenitori dove mettevano gli sti infursi nel seicento e nel settecento queste medicine strane no codo di rosp con la lingua di bue sangue di papera miscavano tutte cose e scrivevano fuori al vaso sia la data del della conservazione sia ciò che conteneva dentro sia la famiglia che l'aveva prodotto per cui tutte queste cose lo stemma familiare la data il decoro che avvolgeva lo stemma erano erano dipinte con una maestria eccezionale che oggi oggi fanno parte di quella classificazione del linguaggio che ti dicevo io per il mobile no cioè quei decori mi dicono di quale epoca e di quale provenienza e di quale famiglia può appartenere quel determinato oggetto a Napoli c'è stato un momento molto importante per la maiolica che è stata la realizzazione del chiostro di Santa Chiara il chiostro di Santa Chiara le maioliche del chiostro per realizzare le maioliche del chiostro fecero venire dei maiolicari e dei decoratori da castelli d'Abruzzo infatti quei colori che vedi se te li ricordi sul giallo sul verde quei paesaggi stilizzati con quegli altri con quei personaggetti sono disegni e sono rappresentazioni tipiche della produzione castelli d'Abruzzo che è diventata napoletana da quel momento in poi è diventata moda a Napoli realizzare maioliche con quel tipo di linguaggio e pensa per esempio un altro luogo importantissimo per la maiolica napoletana e che invito tutti gli amici tuoi del gruppo gli amici nostri se mi permetti di andare a visitare perché è bellissimo quando si potrà che è la farmacia degli incurabili dove c'è una collezione straordinaria di maioliche napoletane c'è proprio una storia della maiolica napoletana in questa farmacia stupendo è come anche un altro luogo importante per la maiolica e non solo per la maiolica anche per la porcellana e per la ceramica napoletana che è un altro capitolo pure importantissimo è il museo Duca di Martina nella Florinana, al Vomero lì pure c'è sì, sì però io invito a tutti quando vanno nei musei di non andare per fare il selfie o per dire agli altri io poi quello l'ho visto quel museo no di andare e di fermarsi vicino ad un oggetto ma di fermarsi tempo anche un solo oggetto e poi se ne va molto tempo vicino ad un oggetto e domandarsi come sta ricendo questo oggetto che sta parlando se non ho le risposte vado a casa e vado a studiare poi lo vado a riguardare quell'oggetto quel solo oggetto in questo modo si va nel museo sta proprio introspettiva si acquisiscono quelle minime parole quei minimi dettagli per poi riuscire a vedere la bellezza in un negozio di antiquariati in un mercato anche in un mercatino per esempio nella diretta di ieri con la nostra amica che non mi ricordo come si chiama quella che facemmo di prova che accennò ad una sua amica che vendeva porcellana il marchio sotto cioè tutte ste cose qua quando io ho affinato l'occhio e ho compreso il linguaggio riesco anche a capire il perché mi ha chiesto un botto come diceva la tua amica mi ha chiesto un botto chiede un botto quando la porcellana è quando la porcellana è che cosa allora devo sapere che cosa è che mi sta raccontando la funzione di un museo praticamente eh? la funzione di un museo no? proprio quella noi siamo fortunati a Napoli guarda noi a Napoli per quanto riguarda le antichità siamo fortunati perché abbiamo come se fossero libri palazzi chiese strade quartieri l'intera città sono libri sono libri sono libri di storia di storia dell'arte di storia sociale e non solo locale non solo napoletana perché Napoli Napoli come eh perché è particolare perché è una città che da duemila anni è una città porosa eh sono passate tantissime culture da Napoli eh e e nel loro passaggio nel loro transito qualcosa hanno preso e qualcosa hanno lasciato per cui io se se ho l'occhio io a Napoli posso capire in Spagna come si lavorava un mobile in Svezia come si lavorava un mobile in Austria in Inghilterra in Francia senza muovermi da Napoli se me le vado a guardare ste cose nel nei palazzi nelle chiese si va bene si entra nelle chiese di Napoli per esempio sempre come punto di riferimento alla Santi Apostoli che sta vicino a Biaduno no? lì vedi proprio tutte le culture tutti i vari stili ma dovunque 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 e così è la maiolica per ritornare al discorso della maiolica cioè la maiolica napoletana trovi di tutto trovi il linguaggio Ligure trovi il linguaggio dei castelli d'Abruzzo appunto trovi il linguaggio siciliano trovi il linguaggio però quando tutte queste cose sono messe insieme esce fuori la maiolica napoletana perché c'è particolare così come lo stile che noi chiamiamo barocco napoletano cioè uno stile che Napoli ha fatto proprio però comunque è arrivato da influenze esterne certo romane certo e quindi la maiolica napoletana nasce da questo e sono stupende appena sarà possibile andremo a vedere la farmacia degli incurabili assolutamente chi ama l'antichità chi ama l'antichità non può non andare alla farmacia degli incurabili sì ma faremo un tour potremo andare ci vengo pure io e poi verremo a trovare te Mario allora io credo che per oggi abbiamo finito ti ringrazio grazie a te di questa grazie anche alle altre due amministratrici del gruppo che mi avete invitato ad analisi a natasha grazie grazie e ai tuoi ospiti perché questo gruppo mi piace già te l'ho detto ieri ma è stato spontaneo alla fine questo gruppo mi piace perché compriamo Napoli mi piace non comprate ad Amazon non comprate su ebay non comprate subito tutte sti cose scendete appena si può scendete girate per i negozi sì guardatevi intorno parlate con le persone bravo va bene Mario ti ringrazio buon fine settimana salutiamo tutti quanti grazie pure a te ciao ciao a tutti ciao vogliamo fare ancora delle lezioni come le chiami tu delle lezioni di antiquariato nel tuo salone possiamo fare qualcuna tematica se vuoi la prossima volta sì va bene grazie grazie Mario salutiamo i nostri amici con una massima che a me piace tanto e che ho fatto mia tutto ciò che è antico è nobile bravo affinché tutti ci possiamo avvicinare a questo bellissimo mondo che è quello dell'arte dell'antico e dell'antiquariato brava grazie un bacio a tutti e a presto ciao ciao Mario